Si intitola Il Potere delle Parole, dell'iniziativa messa in campo dall'Istituto Sciascia Bufalino di Via Socrate a Trapani, ispiratrice dell'incontro la scrittrice Stefania Auci. Stefania Auci, trattare con i ragazzi un argomento così delicato, importante e veramente fondamentale, che è quello delle parole, il potere delle parole. È in qualche modo anche una bellissima responsabilità. Beh, in realtà spesso non ci si rende conto che le parole non sono soltanto lo strumento attraverso cui noi comunichiamo, ma è fondamentale capire che le parole hanno peso, hanno rilievo, hanno valore e soprattutto introducono il nostro modo di essere agli altri e trasmettono dei messaggi fondamentali. Nel caso di specie, credo che per i ragazzi sia fondamentale, è importantissimo capire la validità e l'importanza della corretta comunicazione e della corretta modalità attraverso cui questa comunicazione può tramandare valori, gentilezza, positività. Oggi c'è proprio molto bisogno di questo uso delle parole, spesso, soprattutto sui social, le parole vengono utilizzate male e hanno il potere di offendere, di fare male, di ferire. Quindi il recupero probabilmente del segno, della parola, di ciò che significa tutto quello che è raccolto dietro un'espressione verbale probabilmente dovrebbe essere al centro anche di un tipo di nuova educazione, perché non anche di educazione effettiva. Va da sé che l'incontro, suggerito da chi con le parole lavora, ha avuto bisogno di un forte sostegno da parte degli insegnanti dell'Istituto. Il progetto è patrocinato dal Comune di Erice. Stefana Ausci, che ringrazio tantissimo perché è stata veramente molto pronta ad accogliere il nostro invito e soprattutto la ringrazio per l'argomento che ci ha proposto, il potere delle parole. È un momento della nostra storia in cui tutti hanno diritto di parola, tutti possono scrivere, possono dire il proprio pensiero, ma è proprio questa possibilità che ci dà una grande responsabilità nell'uso che si fa delle parole. Le parole possono creare ponti, possono unire le persone anche lontanissime, persone anche che non si conoscono tra di loro, ma possono anche ferire come armi taglienti. È dunque una grande responsabilità nell'uso delle parole. L'incontro è inserito nell'ambito di un più ampio progetto dal titolo Costruiamo il futuro, un percorso di crescita sociale e culturale parallelo a quello didattico che affronta temi come la scienza, la musica e la tecnologia. Reputo che le parole siano un'arma a doppio taglio perché possono essere utilizzate per esprimere se stessi, ma lo stesso tempo possono essere usate anche in modo negativo, cioè magari anche come un insulto o come un modo per poter danneggiare la personalità altrui, l'identità altrui, ma se utilizzate correttamente, quindi se utilizzate per farle bene, possono esprimere se stessi e quello che si ha dentro. Quindi sono un modo, sono ciò che rappresenta l'identità della persona, quindi diciamo dipende anche da una questione di consapevolezza interiore, perché più si ha consapevolezza di se stessi e più si è in grado di esprimere ciò che si vuole davvero dire, perché a volte noi giovani vogliamo esprimere qualcosa ma non sappiamo come, perché ci mancano magari le parole. E quindi bisognerebbe anche proprio fare un percorso di crescita interiore, capire quali siano le parole più adatte ad esprimere ciò che vogliamo.